Il ministro della giustizia Andrea Orlando e la senatrice Monica Cirinna saranno domani 19 aprile a Barletta alle ore 16 presso la sala consigliare al Teatro Curci. L'appuntamento è promosso dal comitato Labat per Orlando nell'ambito della competizione elettorale che il prossimo 30 aprile porterà alla scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Ancora disagi per gli utenti della ferro-tranviaria, soppresse nuove corse oggi e domani mercoledì 19 aprile. L'azienda si scusa ma non dà spiegazioni. Alessandra Tursilli Tornati dalla pausa per le festività pasquali, nuovi disagi attendono gli utenti della ferro-tranviaria che oggi e domani faranno i conti con nuove soppressioni di alcune corse ferroviarie, così come riportato in un comunicato dell'azienda di trasporti del nord a Barese che scusandosi per il disagio non spiega però le motivazioni di queste cancellazioni. Nello specifico il treno delle ore 06 e 07 sarà limitato a Fesca San Girolamo dove i viaggiatori dovranno scendere e salire su un altro treno per poter raggiungere Bari. Il treno delle ore 7 e 55 sarà invece completamente soppresso e sostituito con un autobus da Bitonto verso Bari. Soppressione anche per il treno delle ore 07 e 036 da Ruvo a Bitonto e sostituito su questa tratta dall'autobus. I viaggiatori che da Ruvo e Terlizzi dovranno raggiungere le stazioni di Palese e Macchie dovranno prendere il treno delle ore 07 e 026, scendere a Bitonto e da lì prendere la coincidenza. Il treno delle ore 09 e 025 sarà poi soppresso completamente e sostituito con un autobus da Bari a Bitonto. Infine il treno delle ore 09 e 028 sarà limitato a Bitonto e sostituito sulla tratta Bitonto-Ruvo dal servizio autobus sostitutivo.